Dopo anni è ormai certo che non verrà allestita alcuna isola pedonale prima e durante le feste di Natale. L'amministrazione non vuole infatti correre il rischio che si intasi la circolazione nel centro città come avvenuto già a più riprese nel recente passato. Le arterie coinvolte nel progetto saranno invece pedonalizzate definitivamente dalla metà di gennaio. La giunta a Corinti è pronta quindi a varare un'autentica rivoluzione per la città con l'istituzione di un'isola pedonale permanente chiusa al transito veicolare. Nei prossimi giorni sarà presentato il nuovo piano viario che prevederà importanti novità. Le feste natalizie che erano tradizionalmente coincise con la chiusura delle vie dei mille Giordano Bruno saranno l'occasione utile per testare proprio le modifiche in cantiere ovvero la chiusura di altre importanti arterie del centro. Come sottolineato dai commercianti e dai residenti è imprescindibile il potenziamento del servizio pubblico e l'aumento dei posti autodisponibili altrimenti il centro sarà comunque congestionato. In tal senso è fondamentale anche la prosecuzione della lotta alla sosta selvaggia già avviata con il profitto dalla polizia municipale per fronteggiare le pessime e intollerabili abitudini dei messinesi. Da lunedì 16 dicembre nelle aree circostanti Piazza Cairoli, Viale San Martino e la Tommaso Canizzaro saranno presenti delle pattuglie dei vigili urbani pronte a intervenire in caso di violazione del codice stradale e pronte soprattutto a favorire la fluidificazione del traffico che in tempi di regali è destinato ad aumentare.